sono stato un medico armonia cosmica franco lanari domanda chi sei entità attraverso gianna mi chiamo lorenzo e sono stato un medico che ha curato molti bambini ma ora sono in un luogo dove non posso fare più di queste cose e vorrei aiutare a risolvere certi problemi che riguardano la salute di tanti tanti bambini domanda sì lorenzo ho capito sei stato un medico mi puoi dire quando sei trapassato entità io sono morto il 25 gennaio 1972 a milano sono stato in coma per 20 giorni è successo tutto all'improvviso stavo andando a curare un bambino che stava molto male e sono andato a sbattere con la mia auto contro un muro poi non c'è stato più niente da fare ora sono qui vicino a voi con la scrittura e non mi do pace perché quel bambino aveva bisogno di me ed io non sono arrivato in tempo domanda capisco lorenzo la tua missione di medico si è interrotta così tragicamente mi sai dire se il bambino dopo è vissuto entità no domanda lorenzo ho capito la tua vicenda umana mi puoi dire in quale via abitavi a milano entità si chiama via alcide de gasperi e vivevo lì domanda lorenzo dato che sei stato un medico puoi darmi qualche suggerimento da dare a qualche medico che vuoi conoscere entità mi riesce molto difficile adesso dare dei suggerimenti dato che sono disincarnato e mi sento come attutito ma forse insieme potremo trovare il modo di fare qualcosa per i bambini adesso suggeritemi voi ditemi che cosa possiamo fare ed io lo farò io sto ancora in ascolto quando vorrete ci potremo risentire ma chiedetemi cose precise e io dirò quello che secondo me va fatto